I primi 20 minuti non è andata come volevo, non è andata come volevano gli stessi ragazzi perché non è mai facile giocare con un pubblico così desideroso di vedere la partita così desideroso che noi facessimo un gol subito dall'inizio però anche dall'altra parte abbiamo trovato un'ortuna ben messa in campo che si chiudeva bene però sono stato contento per la risposta che dopo i 20 minuti si sono un po' adattati gli stessi ragazzi e hanno cominciato a giocare come volevamo questo è un grosso merito perché ci sono giocatori di categoria superiore però è inutile avere giocatori di categoria superiore quando poi non ti cali nella categoria in cui fai